pochi minuti fa prima di venire qui da te ero alla libreria Feltrinelli e ho visto in bella mostra il tuo ultimo libro sul mito perché ti diciamo ti sei concentrato proprio su questo tema pur essendoci molti altri temi che avrebbero richiesto la tua attenzione probabilmente guarda io considero il mito un bisogno fondamentale della natura umana e quindi come tale non un fatto elitario che riguarda soltanto pochi pochi possono elaborare il pensiero del mito ma i miti sono un bisogno dei popoli sono un bisogno universale che ha riguardato la storia che riguarda anche il presente perché quando tu cacci i miti dalla porta come abbiamo fatto noi rientrano poi dalla finestra e rientrano in forma di mitoide di contromiti cioè pensiamo per esempio alla pubblicità al divismo nelle canzoni pensiamo allo sport c'è tutta una mitologia nuova che sostituisce i miti del passato quelli del passato erano miti eroici miti politici e miti che in qualche modo legavano una comunità a un disegno un destino un grande progetto quelli di oggi sono miti che servono a vendere merce o che servono a creare fenomeni di idolatria verso personaggi verso leader però il bisogno del mito è forte quindi indagare su questo bisogno cercare di capire se davvero il mito può salvarci credo che sia un esercizio non accademico non diciamo un estro abbastanza buffo di un autore che vuole approfondire un tema in qualche modo fuori dalla realtà ma significa entrare proprio nel cuore della realtà cioè nella profondità sommersa della nostra società si potrebbe dire come paradosso che siamo tutti forzatamente un po mitomani sì la mitomania è sicuramente come dire l'effetto collaterale della mancanza di miti perché quando tu non hai miti in cui proiettarti diventi tu stesso mito e la mitomania è la sostituzione dell'io in formato gigante sui miti che invece sono delle forme impersonali comunitarie superiori all'individualità e quindi come tali creano coesione comunitaria la mitomania è una forma come dire estroversa di narcisismo cioè come narciso si specchia nella fonte e si ama e si piace la mitomania al contrario si proietta sul mondo e il mitomane è convinto che tutto ciò che accade accade per lui in sua funzione o per merito suo per colpa sua di conseguenza la mitomania è proprio la mancanza dei miti che emerge nella nostra società una specie di compensazione di surrogato se vogliamo anche di surrogato satanico del mito perché poi la mitomania crea una sorta di idolatria dell'io e la convinzione che il mondo sia soltanto un fatto secondario e quel che resta è soltanto il nostro ego smisurato quindi ma nel tuo testo tu dai anche un giudizio morale sul mito cioè se sono miti buoni miti cattivi oppure lo esponi ma io mi attengo soprattutto al significato del mito quindi do un come dire una lettura ontologica se vogliamo usare un'espressione che riguarda l'essenza del mito e una lettura anche estetica cioè la bellezza dei miti il coinvolgimento dei miti so che il mito in sé non ha una sua intrinseca vocazione morale però indubbiamente ci sono miti che riescono a tenere alto il tenore etico di una società e miti invece che aiutano a degradare una società quindi credo che la lettura del mito sia importante anche per capire la decadenza di una società o viceversa la voglia di risvegliarsi quindi hanno un'importante incidenza nella vita tu cur diventano un elemento importantissimo nella nostra società e aggiungo anche un'altra considerazione che di fronte alla disfatta della filosofia del pensiero della politica della stessa religione oggi restano in campo due soli competitori globali la tecnica supportata dalla finanza che ha un valore universale e il mito che è l'unico competitore globale della tecnica perché se la tecnica manipola il mondo il mito ti permette di leggerlo di vederlo quindi se la tecnica è la mano che trasforma il mondo il mito sono gli occhi per vedere il mondo per avere una visione del mondo da qui l'importanza dei miti per compensare o per contrapporsi al primato assoluto delle macchine della tecnica e di tutti i fenomeni automatici che in qualche modo espropriano l'uomo della sua dignità del suo pensiero e della sua libertà